Considerato l'inizio fulmineo che ci avevi mostrato con il Palermo, quell'ingresso è il gol dopo 4 secondi praticamente, ti aspettavi poi di avere un pochino più di spazio oltre che i subentri? Sì, in realtà sì, però penso che sono felice di come sta procedendo, anche se non sto giocando tantissimo sono felice dei risultati di squadra e anche personali, poi ovviamente ti mentirei se ti dicessi che sono soddisfatto, poi io sono una persona molto ambiziosa, però sono contento di quello che stiamo facendo, di come ci stiamo allenando e dei risultati che stiamo avendo per il momento. Secondo me dobbiamo guardare di gara in gara perché visto che adesso abbiamo comunque ottenuto dei risultati positivi ogni partita sarà sempre più difficile perché l'avversario sicuramente si preparerà meglio e dobbiamo pensare a partita ogni partita e un passo alla volta, secondo me solo così riusciremo a magari chissà fare delle grandi cose in futuro, non dobbiamo né montarci la testa né essere presuntuosi, dobbiamo continuare a essere umili come abbiamo sempre fatto e spero ovviamente bisogna essere anche ottimisti e sperare nel meglio. È uno spogliatoio molto importante secondo me perché quando si scherza si scherza ma quando ci alleniamo c'è la massima serietà e ovviamente io cerco di guardare quelli più esperti che per me sono un esempio per come si allenano, per come affrontano la partita, gli allenamenti e la giornata, quindi anche sotto questo punto di vista sto cercando di crescere il più velocemente possibile, il mio è un processo essendo giovane e spero quest'anno il mio obiettivo è di migliorare giorno dopo giorno e arrivare verso la fine del campionato a essere un giocatore importante per questa squadra. Posso chiederti Davide se c'è un modello di calciatore a cui ti ispiri anche per le caratteristiche di gioco che hai? Sì, ci sono Chiesa della Juve e Ribery mi è sempre piaciuto sin da piccolo, però come caratteristiche guardo molto Chiesa, mi piace molto Chiesa. Grazie.